Il Fondo per le piccole e medie imprese, sul quale il Movimento 5 Stelle versa le eccedenze dei propri stipendi, è uno strumento che serve per facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Il Fondo di Garanzia, infatti, non eroga finanziamenti diretti, ma viene usato come garanzia quando un'impresa chiede un finanziamento alla banca. Permette quindi all'impresa di non dover sottoscrivere delle costose fideiussioni e dall'altro lato permette anche all'impresa di ottenere da parte delle banche dei finanziamenti con tassi agevolati e più bassi rispetto alla norma. Come funziona il Fondo di Garanzia? L'imprenditore va in banca e chiede un finanziamento. Contestualmente chiede alla banca che come garanzia venga usato il Fondo Statale. Sarà poi a cura della banca prendere contatto con il Fondo di Garanzia e richiedere la copertura. Tutte le banche sono abilitate a questa procedura. Possono accedere al Fondo Centrale di Garanzia tutte le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fattorato inferiore a 50 milioni di euro. Contrariamente a quanto qualcuno ha insinuato, il Fondo di Garanzia non è gestito dal Movimento 5 Stelle ma è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tanto che i criteri di assegnazione del fondo sono disponibili anche online e tutti li possono visualizzare sul sito dei fondi di garanzia. Quindi informatevi sempre direttamente e diffidate delle malelingue. Vinciamo noi!